Il nostro ruolo in questa manifestazione è quello di essere gli ospiti, tra virgolette detto con molta bonarietà i padroni di casa, quindi ci siamo adoperati affinché dei terreni da noi supposti idonei a quanto serve, siano messi a disposizione di EIMA e di questa rassegna dell'operatività delle macchine agricole. La superficie è destinata di circa 100 ettari, 50 ettari saranno opportunamente utilizzati per le prove di lavorazione, questo è solo un progetto che potrebbe anche essere modificato, una trentina di ettari per le trebbiature, una ventina di ettari da utilizzare per tutto ciò che sono le operazioni di foragicoltura, saranno poi previste anche delle prove di sarchiatura per esempio e qui in questo caso già pensiamo di dover fare delle semine ovviamente molto fuori stagione perché avere delle culture da sarchiare a fine luglio significa seminare all'inizio del mese, tutti problemi che poi non sappiamo ancora chi viene di cosa necessiterà in fondo, sappiamo qual è la superficie, non sappiamo ancora meticolosamente le esigenze di coloro che interverranno a mostrare, ma ci adegueremo sicuramente e sono certo che riusciremo ad ospitare convenientemente chi vuole venire. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!